Eccoci, buonasera, il nostro telegiornale partirà purtroppo con i dati di oggi che sono negativi, da qui purtroppo ovviamente, sono dati che ci riportano indietro di due mesi per quanto riguarda i decessi, non ce n'erano purtroppo, ripeto, così tanti da un mese, da due mesi esatti appunto, dal 19 di gennaio quando si registrarono 600 vittime, oggi 551 i decessi, con 18 mila e passa nuovi casi. La situazione era quella che si temeva perché si raggiunge il picco, il cosiddetto picco, e questo picco è il punto rispetto al quale poi ci dovrebbe essere la discesa, ma è facile dirlo ovviamente, noi registriamo i dati e vediamo che ancora la situazione è questa. Vediamo però anche che ci sono altri aspetti, c'è il piano vaccinale che ancora incontra resistenze nelle regioni, oggi è distribuito quel milione di dosi Pfizer che era stato preannunciato 24 ore fa da Palazzo Chigi. Da parte delle organizzazioni rappresentative, dei medici ospedalieri e degli infermieri, si dice che in realtà dopo tante parole, tanti numeri in libertà delle scorse settimane, alla fine sono poche centinaia a quanto pare gli infermieri che hanno rifiutato di vaccinarsi, mentre i medici ospedalieri che non hanno voluto il vaccino sarebbero dall'1 al 2%, dati irrisori dirà qualcuno, ma in realtà 1 o 2% vuol dire che 1 o 2 su 100 medici all'interno degli ospedali non ha voluto il vaccino. Questo non è un dato secondario, è abbastanza inquietante e ripone il problema dell'obbligo vaccinale per chi lavora dentro gli ospedali e soprattutto per i medici, intendiamoci. Vedremo però anche che dal punto di vista internazionale in Europa continua il pressing su AstraZeneca che non ha consegnato le dosi promesse e neanche la metà delle dosi promesse. Tanto per intenderci, mentre Boris Johnson annuncia che è quasi certa la terza ondata in Gran Bretagna e quindi con i suoi collaboratori fa capire che sarà quasi certo anche un obbligo di nuova vaccinazione in autunno. Però qui arrivano notizie che allargano il cuore alla speranza, ovvero che Pfizer sta testando la possibilità di un vaccino per via orale, che ovviamente renderebbe tutto molto più facile. Ma come vedremo ci sono anche altri dati della realtà che arrivano dal mondo della scuola, ad esempio dove un'azione delle forze dell'ordine ha portato a scoprire quelli che possiamo considerare gli hacker scolastici, entravano, minacciavano, ricattavano perfino durante le lezioni della didattica a distanza. Ma vedremo anche che dal punto di vista politico l'attenzione ancora sul Partito Democratico alla Camera dei Deputati, nel gruppo della Camera, letta a gioco facile nel vedersi dire sì alla richiesta di un capogruppo al femminile, donna. Mentre invece al Senato sono forti le resistenze, non solo di Marcucci, che è l'attuale capogruppo, ma di una parte consistente del gruppo senatoriale. Vedremo come andrà comunque, si saprà tutto nei prossimi giorni. A livello internazionale non potremo non parlare dell'ennesima strage negli Stati Uniti, a un centro commerciale 10 vittime. e come vedremo ci sono anche notizie riguardanti Patrick Zaki in Egitto. Questo è altro, 30 secondi titoli. 551 vittime oggi per il Covid, il numero più alto dal 19 gennaio scorso. E purtroppo i decessi saranno gli ultimi a diminuire dati negativi in una giornata che registra ancora un aumento della pressione su terapie intensive e strutture ospedaliere. La grande quantità di tamponi fa scendere il tasso di positività al 5,6%. Potremmo essere vicini al picco. Arrivate e distribuite le dosi Pfizer, annunciate ieri un milione, ma in molte regioni non si riesce ancora a velocizzare la somministrazione. Uno o due medici ospedalieri su cento rifiutano di vaccinarsi. In tutta Italia sono tra i 1.000 e i 2.000, su un totale di 114.000. Gli infermieri che invece sono opposti alla vaccinazione sono soltanto un centinaio. Il dato reso noto dalla Nao Assomed, il sindacato degli ospedalieri, rilancia la discussione su una legge che renda obbligatoria l'immunizzazione per medici e infermieri. Draghi interviene all'iniziativa Sud, progetti per ripartire, promossa dal governo, e delinea uno scenario molto chiaro. Investire bene i fondi in arrivo dall'Unione Europea per colmare lo squilibrio tra nord e sud, con attenzione soprattutto a giovani e donne. Nel giorno in cui l'Istat lancia l'allarme, nell'anno Covid la disoccupazione ha raggiunto 15 punti percentuali in più nel mezzogiorno. Entravano in chat, interrompevano le lezioni e in questo modo permettevano a chi li aveva ingaggiati di evitare le interrogazioni. Individuare tre hacker della didattica a distanza, uno dei quali minorenne è stata la polizia postale di Genova. Dalle loro postazioni in provincia di Milano e di Messina disturbavano le lezioni online in diverse scuole in tutta Italia. Il primo ostacolo nel cammino di Enrico Letta arriva dall'interno e si chiama Andrea Marcucci. Contrariamente a quanto fatto da Graziano De Rio alla Camera, il senatore di base riformista non vuole lasciare l'incarico di capogruppo in Senato a una collega, come chiesto dal segretario. Sarà braccio di ferro fino alla votazione di giovedì. Secondo la polizia, ha agito da solo Ahmad Al-Aliwi Alissa, il 21enne autore della sparatoria in Colorado, costata la vita a 10 persone, tra cui un poliziotto. Il kill di origine siriane, ma negli Stati Uniti a quando era tre anni, è rimasto gravemente ferito. Quella in Colorado è la seconda sparatoria dell'ultima settimana. Basta alla vendita e al possesso indiscriminato di armi, dice Biden. Buonasera, speravamo di non dover mai più aprire il giornale con altre notizie sconfortanti proprio dal fronte dei dati del bollettino quotidiano. Invece oggi, sperando che sia l'avvicinamento al picco e che di qui in poi, entro pochi giorni, si parli di quel numero che si abbassa in ogni colonnina, soprattutto in quella più pesante, quella dei morti, invece oggi ci tocca di nuovo appunto dare notizia di un bilancio molto, molto pesante. 500-51 decessi. Non ce n'erano così tanti da due mesi a questa parte. E non è l'unico dato non certo incoraggiante. I dati del bollettino di oggi sono brutti, ancora in peggioramento, a cominciare dal numero dei morti, che sale a 551, numero drammatico. Ieri erano stati 386. Mai così tante vittime in 24 ore, dal 19 gennaio scorso, quando i morti per Covid furono 603, 550 vittime. Le ritroviamo il 13 novembre del 2020, nel record seconda ondata. Quasi 19.000 nuovi positivi, quasi 5.000 più di ieri, con più di 335.000 tamponi processati, molecolari e antigenici, col tasso di positività che scende al 5,6%, unico indice col segno meno, ieri era all'8,2. Insomma, il contagio continua la sua corsa, in attesa che si vedano tra due settimane gli effetti delle misure di contenimento in atto e delle vaccinazioni in corso. Una doccia fredda sulle speranze di un calo, di un abbassamento della curva. Ancora sotto tensione, le strutture ospedaliere continuano a salire i ricoveri, alla voce posti occupati nelle terapie intensive, nel saldo tra uscite e nuovi ingressi, c'è un più 36 e sono in totale più di 3.500, mentre gli ingressi nei reparti ordinari aumentano di 379 unità. Boom di ricoveri, 99 morti in Lombardia, che torna a essere la regione più colpita, continua a crescere il numero dei pazienti Covid nelle Marche, quasi 1.100 ricoverati. In Piemonte oggi il numero delle vittime positive, da inizio della pandemia, supera quota 10.000, i casi totali da quando è iniziato tutto, sono quasi 3 milioni e mezzo, le vittime totali 105.879. Oggi sono arrivati nuovi quantitativi di dosi, un milione e passa, era stato preannunciato ieri dal governo, da Palazzo Chigi, e oggi appunto sono state distribuite in tutte le regioni, appunto le nuove dosi, ma in molte regioni ancora ci sono segnalazioni dell'applicazione a rilento del piano vaccinale, soprattutto per quanto riguarda gli anziani e le persone più fragili. Già resta questo il problema principale. Mentre attraverso un dato diffuso dalle organizzazioni rappresentative dei medici ospedalieri e del personale infermieristico, si viene a sapere che c'è una percentuale, certo esigua, ma non trascurabile, soprattutto di medici che lavorano negli ospedali che hanno rifiutato di vaccinarsi. Uno o due medici su cento che lavorano in ospedale hanno rifiutato il vaccino, una percentuale più alta di quella degli infermieri che hanno detto di no alla propria dose. Sono questi i dati dell'adesione delle categorie sanitarie, secondo il maggior sindacato dei medici ospedalieri, la NAO Assome della Federazione dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche. Cento infermieri e 3.000 e 2.000 medici hanno deciso di non immunizzarsi. Tutti gli altri, almeno 360.000 persone, lo hanno fatto. Numeri che possono essere letti in modo opposto, una percentuale bassa, certo, ma riguarda la categoria che in teoria non dovrebbe avere diserzioni e che per molti andrebbe vaccinato obbligatoriamente. E mentre si discute proprio dell'opportunità di una legge nazionale sul vaccino obbligatorio per medici e infermieri, il Tribunale di Belluna ha respinto il ricorso di 10 operatori che, secondo il Corriere del Veneto, dopo aver rifiutato il vaccino, erano stati sospesi dalle case di riposo di cui sono ancora dipendenti. La direzione delle RSA, incassato il loro no all'immunizzazione, le aveva messi in ferie. Erano stati in seguito dichiarati in idonea al servizio dal medico del lavoro e sospesi senza stipendio. Il giudice ha detto di no al loro reintegro perché il datore di lavoro ha l'obbligo di mettere in sicurezza i dipendenti e gli ospiti delle case di riposo Il vaccino, ha scritto il giudice Veneto, è efficace per ridurre gli effetti del virus. Le prove stanno nel drastico calo dei decessi tra chi si è immunizzato. Più di 4 milioni tra medici, infermieri, ospiti delle RSA hanno ricevuto almeno una dose e gli effetti sono riassunti in questo grafico nel report dell'Istituto Superiore di Sanità. La linea grigia indica i casi di Covid, la gialla e i positivi tra gli operatori sanitari. Dall'arrivo del vaccino rappresentato dalla linea tratteggiata mentre il trend dei contagi nel paese è aumentato, quello tra chi ha ricevuto le due dosi si è drasticamente ridotto. Sul tema vaccini oggi arriva la lettera di Gennarino De Fazio, segretario della UILPA, polizia penitenziaria, che attacca il presunto stop alle vaccinazioni iniziate nelle carceri dove in sette giorni ci sono stati più di 120 casi di Covid. Sarebbe un declassamento dell'attenzione sulle carceri, scrive. Nessuna sospensione fa sapere l'ufficio del commissario Figliuolo. Anche per i detenuti verranno applicati i criteri scelti per il resto della popolazione, quindi iniezioni agli over 80 alle persone più fragili e in ogni caso chi ha ricevuto la prima dose riceverà anche il richiamo. Ecco, non dimentichiamo mai che i detenuti sono nella responsabilità dello Stato, dell'organizzazione dello Stato e di tutti noi. e hanno altrettanto diritti, soprattutto dal punto di vista medico-sanitario, di tutti gli altri. E già che ci siamo, diciamo un'altra cosa forse ancora più impopolare. È assolutamente doveroso che ci sia una proposta di legge che si discuta dell'opportunità e della necessità di vaccinare tutti coloro che lavorano negli ospedali. Lì arrivano i più anziani, i più fragili, coloro che sempre, fra l'altro, all'interno delle mura ospedaliere rischiano di più. E allora non si può trascurare nulla a questo riguardo. Invece di trastullarsi nella retorica del premio Nobel ai medici e infermieri italiani, come se poi quelli degli altri paesi non avessero avuto la stessa assoluta abnegazione, aiutiamoli economicamente, adeguiamo i loro stipendi, ma aumentiamo anche il barrage delle responsabilità e dei doveri, il primo dei quali è ovviamente di non essere anche involontariamente fonte di ulteriori contagi. Andiamo a vedere ora come questa vicenda, che purtroppo da un anno condiziona tutte le nostre vite, ha in Italia aumentato lo squilibrio tra Nord e Sud. e cosa si può fare adesso che i soldi dell'Europa ci possano permettere di programmare per il futuro. Con la pandemia che lascia cicatrici enormi, aumenta le differenze già sedimentate da decenni e lascia ancora più indietro i più deboli, la distanza tra Nord e Sud si acuita e a pagarne il prezzo più alto sono stati i giovani e le donne. Ecco ora è il momento per fermare il divario e cercare di recuperare. Il Premier Draghi interviene all'iniziativa Sud Progetti per Ripartire, promossa dalla Ministra Carfagna. E ha bene in mente cosa bisogna fare. Serve spendere bene i fondi in arrivo dall'Unione Europea, coi 191,5 miliardi del programma Next Generation EU, che ci permetteranno di aumentare la spesa in infrastrutture. Ma serve avere obiettivi precisi. Vogliamo fermare l'allargamento del divario e dirigere questi fondi in particolare verso le donne e i giovani. Il nostro, il vostro successo in questo compito può essere anche un passo verso il recupero della fiducia nella legalità e nelle istituzioni, siano esse la scuola, la sanità o la giustizia. Serve mettere il Sud al centro di iniziative operative concrete perché i dati sono allarmanti e raccontano di un Paese pieno di contraddizioni e disuguaglianze. La scolarità femminile nella sola regione Campania vede quasi 600 mila donne, non oltre la licenza elementare. Tra il 2008 e il 2018 la spesa pubblica per investimenti nel mezzogiorno si è più che dimezzata. La differenza occupazionale tra Nord e Sud è del 15%. La percentuale dei cosiddetti NEET, giovani che non studiano, non hanno un lavoro, non sono impegnati in nessun tipo di percorso formativo, al Nord è del 23%, al Sud del 32%. Ma certo, avere i fondi non basta, le risorse che l'Italia avrà a disposizione non porteranno necessariamente alla ripartenza del mezzogiorno perché l'Italia, tutta intera, deve essere anche capace di completare le opere pubbliche. Basti pensare che degli oltre 47 miliardi di euro programmati nel Fondo per lo sviluppo e la coesione dal 2014 al 2020, alla fine dello scorso anno erano stati spesi poco più di 3 miliardi, il 6,7%. Draghi lo spiega bene, nel 2017 in Italia erano state avviate, ma non completate, 647 opere pubbliche, il 70% di queste opere non completate era localizzato al Sud per un valore di 2 miliardi. Che la pandemia sia quindi l'occasione per ripensare a valori e criteri e per farlo serve l'aiuto di tutti. In questa sfida un ruolo cruciale è anche vostro, classi dirigenti, è l'appello di Draghi, ma un vero rilancio richiede la partecipazione attiva di tutti i cittadini. A livello europeo, a livello internazionale, si assiste a un tentativo di contenere quello che sembra un allargamento del contagio. In Germania particolarmente, Angela Merkel è stata costretta a prendere misure fino a metà di aprile ulteriormente più pesanti e questo perché, ha spiegato proprio la cancelliera, si è in presenza di una nuova ondata, la più grave. E anche in Gran Bretagna, Boris Johnson annuncia che si è nel momento più difficile, si teme, l'arrivo di una nuova terza ondata. Anzi, i suoi collaboratori fanno capire che ci sarà in autunno forse la necessità di una nuova campagna vaccinale. E del resto però arrivano anche notizie più rassicuranti. Mentre oggi, a Mosca, finalmente, si è vaccinato anche Vladimir Putin con lo Sputnik V, ovviamente. Never give up, si dice in inglese, non mollare mai. Ed è un po' quello che, con termini meno prosaci, ha dichiarato oggi il premier britannico Johnson facendo il punto sull'emergenza Covid. Il Regno Unito, ha detto, deve essere conscio della prospettiva concreta di una terza ondata di contagi di ritorno dall'Europa continentale alimentati dalle varianti. Per questo, ha continuato, le frontiere del paese resteranno blindate. Da lunedì prossimo sarà illegale andare all'estero se non per motivi di urgenza. I trasgressori rischiano una multa di 5.000 sterline e quasi 6.000 euro. Anche se sui vaccini ha deciso di tendere una mano a Bruxelles dicendo di non credere al blocco dell'export perché tutti stiamo combattendo la stessa battaglia. La stessa battaglia che si combatte anche in Germania con le stesse restrizioni. Oggi la Merkel, di fronte a un aumento esponenziale della contaminazione e a una nuova variante molto più letale di Covid-19, ha deciso di chiudere il lockdown rafforzato tutto il fine settimana di Pasqua. La maggior parte dei negozi saranno chiusi, appunto, le funzioni religiose annullate nel fine settimana dall'1 al 5 aprile. Ma al di là del principio di precauzione forse c'è altro dietro queste scelte. C'è la consapevolezza che bisogna imparare a convivere con un nemico che diventerà endemico. E a dirlo non siamo noi, naturalmente, ma un team di scienziati che appena una settimana fa ha pubblicato su Science questo studio che analizza proprio il futuro scenario in cui il virus SARS-CoV-2 non sarà debellato, ma imparerà a convivere con noi e noi con lui. diventerà appunto endemico come un raffreddore. Per l'analisi gli autori hanno analizzato i dati immunologici ed epidemiologici di altri coronavirus quattro in tutto emersi dieci anni fa che sono diventati endemici e causano oggi appunto un comune raffreddore. La vera questione però naturalmente è capire con che tempi e a che prezzo di vite umane. Per questo è fondamentale proseguire oltre che con le misure restrittive anche con la ricerca e la vaccinazione a tappeto che potrebbe in futuro diventare anche di più facile somministrazione. sono cominciati negli Stati Uniti i trial di fase 1 per un farmaco anti-covid-19 da assumere per via orale prodotto dalla Pfizer. Si tratterebbe di un antivirale un inibitore della proteasi SARS-CoV-2 che ha dimostrato una potente attività antivirale in vitro contro la SARS nonché attività contro altri coronavirus suggerendo un potenziale utilizzo nel trattamento di covid-19. Sappiamo che uno dei problemi principali di quest'anno di pandemia è stato il fatto che non si è tenuto conto della necessità per i giovani di socializzare e la scuola è stata di fatto forse la categoria insegnanti e studenti è più sacrificata. Non solo qualcuno ha pensato fosse opportuno metterci qualcosa di truffaltino dentro. si tratta di gruppi che hanno creato un vero e proprio sistema di hackeraggio della didattica a distanza per favorire coloro che non volevano farsi interrogare o anche peggio. L'offerta era allettante e apparentemente senza conseguenze per studenti poco preparati e poco intenzionati a recuperare un sistema collaudato e redditizio per sabotare la didattica a distanza facendo saltare con incursioni mirate verifiche interrogazioni indigeste passatemi i link e entro nelle vostre video lezioni ci sono voluti mesi di indagini da parte della polizia postale di Genova per risalire a un gruppo strutturato di disturbatori con un tariffario online per far saltare le lezioni in lockdown quel che anche agli ignari professori sembrava all'inizio un modo molesto dei ragazzi della stessa classe per perdere tempo si è rivelato un sistema ben più collaudato un gruppo con amministratori e organizzatori che prometteva di far saltare la mattinata sono state più di 100 le incursioni segnalate e gli agenti sono partiti dalle denunce presentate da presidi di diversi istituti già nel primo lockdown ad ora sono stati identificati tre ragazzi uno minorenne sono della provincia di Milano e Messina e facevano parte di gruppi Telegram e Instagram creati appositamente hanno tutti ammesso le condotte contestate dovranno rispondere di reati di interruzione di pubblico servizio e accesso abusivo di sistemi informatici o telematici se vuoi che entri durante la lezione mi devi pagare così si mettevano d'accordo su Telegram con tanto di rassicurazioni sull'impossibilità di essere individuati rintracciare chi manda i codici di accesso alle lezioni è impossibile come si fa ce l'hanno tutti così tranquillizzavano gli studenti che li contattavano la lezione diventava ingestibile per i docenti una volta entrati i ragazzi mandavano sugli schermi di studenti e professori videoporno insulti scritte e bestemmie facevano risuonare musica e versi anche faccetta nera uno degli indagati è un noto youtuber salutavo solo i miei fan mentre i prof non c'erano ha provato a giustificarsi raccontando di un'innocua bravata che non è tale per gli inquirenti che ora hanno individuato anche gli studenti che hanno condiviso i codici di accesso alle video lezioni dalle perquisizioni sono stati sequestrati computer tablet e smartphone che consentiranno di valutare la posizione degli altri giovani iscritti nelle chat incriminate andiamo a vedere la notizia principale della politica che è la messa in atto di quello che è stato l'impegno preso 48 ore fa dal neosegretario del partito democratico Enrico Letta di far eleggere nei due gruppi parlamentari del partito delle donne alla guida missione praticamente compiuta alla camera missione molto più difficile al senato il nodo Marcucci blocca il reset chiesto da Letta sui capigruppo PD alle camere per far spazio a due donne in nome della questione femminile esplosa nel partito con la nascita del governo Draghi primo ostacolo sul cammino del neosegretario nonostante l'unanimismo che l'ha portata alla guida del PD e l'apparente deposizione delle armi da parte delle correnti sia la camera del Rio ha messo sul piatto le sue dimissioni sono il primo a farmi da parte la sfida per la parità di genere la mia ha detto al senato Marcucci il capogruppo di base riformista la corrente degli exerenziani non molla non è bastato il faccia a faccia con Letta prima della riunione dei senatori a risolvere la questione i due sono arrivati insieme all'assemblea preceduti dalle parole del segretario un'intesa tra Pisani e Lucchesi si trova sempre ha scherzato riferendosi alle comuni radici toscane ma con il nodo ancora sul tavolo so che chiedo un grosso sacrificio a Del Rio e Marcucci le parole di Letta di fronte ai deputati primi ai senatori poi chiedo un atto di generosità per gestire questo passaggio evitiamo di stare settimane sui giornali su questi temi interni parole rintuzzate da Marcucci che già questa mattina aveva scritto un posto rivendicando le cose fatte alla guida del gruppo indigeribile per il capogruppo usare la parità di genere come paravento per una questione tutta politica capigruppo in calza Marcucci io voglio coerenza bisogna interrompere la tradizione di avere segretari sempre uomini il paese è in affano non voglio che il PD si limiti a parlare di parità di genere al proprio interno spiega sappi dice rivolgendosi a Letta che noi non siamo incoscienti ma pretendiamo coerenza il passaggio sulla delegazione europea ad esempio a me non è piaciuto dice riferendosi alla recente rielezione del capogruppo uscente Brando Benifei uomo anche lui il braccio di ferro è rinviato a giovedì mattina alle nove e mezza quando sarà l'assemblea del gruppo dove gli ex serenziani sono maggioranza con 22 voti su 35 a votare per il capogruppo la mia riflessione ovviamente sarà per lavorare e decidere su una mia candidatura o su una candidatura di una donna che sarà concordata con tutto il gruppo dal Nazareno filtra ottimismo e non si esclude che sia la sua stessa area di riferimento base riformista a tirare il freno a mano A livello internazionale spicca ancora una volta una notizia devastante dagli Stati Uniti un'altra strage in un centro commerciale 10 morti è il solito problema la facilità con cui si trovano le armi e poi le si usano in questo modo tanto che Biden parla e ancora una volta succede questo come succede quasi tutti gli anni negli Stati Uniti di una legge per rendere più difficile l'acquisizione di queste armi Non si può aspettare un minuto di più per proibire l'uso delle armi dobbiamo avere finalmente una legge Il Presidente Joe Biden parla alla Nazione poche ore prima alle due del pomeriggio in un supermercato di Boulder in Colorado un uomo ha ammazzato 10 persone Il Presidente parla e dice quello che ci si aspetta da un Presidente democratico ovvero che bisogna mettere un freno alla vendita e al possesso indiscriminato di armi e che non dovrebbe nemmeno essere una questione di parte Qui, aggiunge Biden si tratta di salvare vite di americani Non è così ovviamente di parte lo è e come la lobby delle armi lo sa bene e si è mossa immediatamente anche perché insieme a Biden hanno rilanciato il tema Obama la speaker della Camera Pelosi il capogruppo dei democratici al Senato ma tocca al Congresso decidere Certo sciocca il Paese la seconda strage in meno di una settimana 8 i morti ad Atlanta nei centri massaggio mercoledì scorso 10 oggi tra la gente in fila per la spesa e il centro vaccinazione ospitato negli spazi del King Super A sparare dicono gli agenti che piangono la perdita di un poliziotto 51 anni padre di 7 figli a sparare dicevamo sarebbe stato un ragazzo di 21 anni Amada Alissa è entrato ha aperto il fuoco senza dire una parola raccontano alcuni testimoni imbracciava un fucile semiautomatico AR-15 lo aveva comprato una settimana fa nessuno lo aveva fermato la messa al bando delle armi automatiche era stata appena bocciata 10 giorni fa da un giudice locale eppure lo conoscono bene da queste parti il semiautomatico AR-15 il Colorado è pur sempre teatro di una delle più efferate stragi mai raccontate quella a liceo Columbine 21 anni fa come quella al multisala Central ad Aurora non c'è mai un motivo valido né razionale per sparare all'impazzata il fratello di Amada Alissa dice forse soffriva di turbe mentali da piccolo è stato bullizzato viveva negli Stati Uniti da tempo veniva dalla Siria a casa gli hanno trovato altre armi bisogna anche dire che si sta votando ed è la quarta volta che Israele va alle urne in due anni per appunto eleggere il Parlamento la Knesset le operazioni di voto si concludono tra poco più di mezz'ora come al solito è un referendum su Netanyahu vedremo domani i risultati l'ultima pagina del giornale è dedicata però a una battaglia che non dobbiamo smettere di portare avanti quella per la libertà di Patrick Zaki una parte del mondo arabo l'altro ieri ha celebrato la festa della mamma e a sorpresa i magistrati del caso Zaki hanno concesso alla madre e alla sorella di Patrick un permesso straordinario per fargli visita nella prigione di Tora oggi lo hanno trovato stanco triste pessimista spento un'altra persona il ricercatore egiziano dell'Università di Bologna attivista per i diritti umani è rinchiuso per propaganda sovversiva da quasi 14 mesi accusato di aver messo su Facebook 10 post che invitavano il popolo a rovesciare il governo di Assisi Zaki nega dice di poterlo dimostrare che quei post non li ha scritti lui ma non gli permettono di difendersi ciclicamente a colpi di 45 giorni per volta tre giudici gli rinnovano il periodo di detenzione preventiva e il tempo passa ma se gli egiziani non conoscono la storia di Zaki perché il regime controlla i media se fuori dall'Egitto le diplomazie poco possono o vogliono fare c'è un piccolo grande mondo che lo pensa lo ricorda gli fa gli auguri per l'onomastico mercoledì scorso lo incoraggia a resistere i familiari ogni volta che vedono Patrick gli raccontano tutto anche quanto gli manda a dire stasera la sua tutor al master in studi di genere gli verrà riferito c'è uno spazio vuoto nelle nostre lezioni online c'è una sedia vuota nelle nostre aule e sarà sempre solo per te quello spazio e per quando tornerai perché tornerai presto non ti arrendere oggi Patrick avrebbe voluto affidare a mamma e sorella una lettera due pagine con cui ringraziava gli amici i compagni di studio i docenti e i cittadini di Bologna Amnesty International i ragazzi delle scuole italiane che continuano a inviare messaggi di incoraggiamento ma il poliziotto che sorvegliava il colloquio ha deciso che la lettera di Patrick Sacchi non sarebbe uscita dal carcere e lì dentro è rimasta in breve vi devo dire che c'è una precisazione dal commissario all'emergenza ovvero dal generale Figliuolo a chiarimento di errone interpretazioni si precisa che l'attuale piano di vaccinazione contempla e prevede la vaccinazione della popolazione carceraria la quale rientra nelle categorie prioritarie previste dal Ministero della Salute dopo di noi a 8 e mezzo gli ospiti di Lilly Gruber sono Antonella Viola Beppe Severnini Gad Lerner e poi a di martedì con Giovanni Floris non manca Pierluigi Bersani l'ex magistrato Davigo e l'ex segretario del PD Zingaretti ci fermiamo Infine negative le borse Milano ha chiuso con un meno 0,61% e in questo momento a Wall Street Dow Jones meno 1% esatto Nasdaq meno 1,15% è tutto Gruber Floris ci vediamo domani sera buonasera Grazie a tutti